ben ritrovati amici di yoke watch italia siamo ancora qua per finire di aprire il nostro box delle medaglie di serie 2 quindi cosa aspettiamo iniziamo a mettere like ci iscriviamo subito al canale e lo condividiamo con tutti i nostri amici che anche loro si devono iscrivere mi raccomando purtroppo siamo tornati alle forbici pacco che le altre sono sparite sarà stato uno yokai magari whisper che ci ha fatto un dispetto quindi prima bustina ricordo che ne abbiamo quattro da aprire quattro e cerchiamo sempre se nel floor però non abbiamo tante doppie però ce ne sono sempre io vi ricordo che le metto sempre sul sulla pagina facebook degli scambi quindi se volete scambiare le medaglie con me e con altre persone andate lì allora allora questa bustina un po sfortunata un po sfortunato perché abbiamo shock up che si vede e ce lo sentiamo anche se abbiamo già sentito forse nel video precedente ma vabbè ma vabbè meglio averne un in più che uno in meno o che non averne proprio niente non gli è piaciuto anche anche il nostro orologio si è stancato di shock up vai dai via shock up poi abbiamo buhù che anche lui lo avevamo già ma forse solo uno e ce lo sentiamo al volo e via e lo mettiamo sempre nei doppi e poi ho trovato incontifante che mi sa che non lo avevo ma non lo so vai vai incontifante e mi scappa mi scappa adesso la seconda bustina l'ho presa dal centro di solito le prego da davanti o da dietro comunque le stavo facendo infine l'ho presa proprio dal centro vediamo cosa succede vediamo cosa succede quindi seconda quindi seconda bustina forbice che non taggia ma fa niente allora allora ma non ci credo allora allora ragazzi allora fate i bravi fate i bravi e iscrivetevi e iscrivetevi abbiamo sempre show cap vabbè io direi che non ve lo faccio sentire lo rimetto qua poi abbiamo no 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 giusto no 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 che ce l'andiamo a sentire mi sa che mi mancava intanto io mi controllo il mio album che l'ho aperto qua sotto e vai no 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 purtroppo ce l'avevo già no 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 purtroppo l'avevo già quindi doppio anche lui e poi in contifante ci mancava in contifante ci mancava e poi abbiamo trovato ghello 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 che ci mancava sì sì ghello ci manca quindi dai su due bustine due medaglie vabbè poteva andare peggio vai con ghello 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 e quindi lo mettiamo con filtefant qua eccolo lì eccolo lì terza bustina la penultima io vi ricordo ragazzi che cerchiamo sé nel floor like al video per trovare sé nel floor anche se non lo troviamo leg lo stesso dai facciamo i bravi eccoli lì dopo vi faccio vedere perché molti mi avete chiesto se dato che con la serie 2 ragazzi avete messo like avete messo like finisco dopo finisco dopo ve lo dico dopo quindi in questa abbiamo trovato che lo mettiamo sempre nei doppi poi abbiamo trovato attenzione attenzione via questo poi abbiamo trovato tadan duro boshide e sapete che cosa vuol dire? che lui ci mancava che lui ci mancava ho avuto un colpo quindi duro boshide duro boshide duro boshide duro boshide duro boshide e vabbè e la terza è sempre una doppia una doppia vabbè ve la faccio vedere lo stesso perché senilflor abbiamo trovato la leggendaria abbiamo trovato la leggendaria tadan tadan bellissimo 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 quindi leggendaria per oggi quindi la giornata è partita bene è partita bene ancora meglio se ci scriviamo in massa se ci scriviamo in massa e abbiamo comunque da aprire un'altra bustina un'altra bustina io l'ho presa in mezzo quello quindi non fate la fila pescatele in mezzo sulla sinistra era era qua così pam quindi ultima perché comunque dobbiamo finire la collezione dobbiamo finire la collezione fantastico fantastico e ormai cioè non so più che cosa dire non so più che cosa dire sempre doppie troviamo adesso questa l'abbiamo trovata nel video precedente ma ve la faccio sentire lo stesso perché comunque è carino che chirinata che chirinata doppia 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 poi lui chi è? Suspicion non me lo ricordo io me ne riconfondo sempre loro dovrebbe essere Suspicion dovrebbe essere Suspicion che la faccia un po' sospetta vai niente questa non aveva voglia di prenderla vai l'ombra è l'ombra e l'ombra è l'oscurità Suspicion 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 e niente ecco chi dobbiamo trovare Robonian ragazzi Robonian che mi piace da morire e per ultima abbiamo Boss Serpente che anche lui ci mancava l'ho visto adesso ero proprio sulla pagina giusta e quindi e quindi e niente va bene e anche per oggi abbiamo finito anzi no vi dicevo molti mi avete chiesto come fare a mettere le medaglie guardate ci stanno fronte e retro ce ne stanno due bisogna fare attenzione eh bisogna fare attenzione e che dire ragazzi un saluto follow iscrizione condivisione soprattutto condivisione con i vostri amici e al prossimo video perché cerchiamo Robonian ciao ciao